l'origine il punto è l'origine noi siamo qui siamo collocati qua per noi tutto cambia in continuazione noi possiamo anche decidere di non accettarlo il cambiamento però non possiamo più vivere la storia L'uomo può essere protagonista del cambiamento, è lui che decide se accoglierlo o meno e è lui che decide in quale direzione andare. L'uomo può essere protagonista del cambiamento, è lui che decide in quale direzione andare. Questa è la libertà.